Noi che diamo il porto, vieni, 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 perché c'è l'aspetto di un'unità? Ok, sono sempre troppo di lato. Il nazionale. Magari. La cosa più importante è fare bene solo qua, fare bene con questa maglia e onorarla sempre di più, perché bisogna sudarla, bisogna sudarla perché non l'hanno fatta loro e hanno sudato per lunghi anni dalla Serie C e passando Serie B e adesso si trovano in paradiso e ce la siamo conquistata. Non l'hanno fatta loro, non l'hanno fatta loro, non l'hanno fatta loro. Grazie a tutti.